Oh ragazzi, stasera con un ospite speciale che ci racconterà un aneddoto privato di Marco, Eugenio Berzi. Quella volta che? Quella volta che? Mi ha fatto sorpreso. Hai visto? Eh, sì, bravo. Ma quando vi siete buttati nella mano? Ah, sì, sì, quella lì in Toscana, in Toscana, in Toscana, in Corsa di Camercia Industria. Siamo partiti, saliti, mi ricordo, era l'ultimo gira, l'ultimo gira, perché stai a fine che rimaneva davanti, perché erano saliti di San Baronto, che lì se rimanevamo in due o tre e quelle che arrivavano poi alla fine. Il problema è che c'era curva un po' lunghina, coperta con cemento. Lui, Marco, come sempre, prende mani bassi, perché, lo vedete, questo qua parte, basta stare a ruota e vedrai che poi... Io sono messo tra muretto di cemento e lui di là, quando usciamo a fotografico fuori delle curve di cemento, c'era davanti un pochissato Ford Escort. Lui, il contesto, guardava me giù, però ero macchino davanti. Vieni qua, Yader, che ci stanno andando. Sono salto in tre secondi, tutto tutto, basta, finita la corsa. No, poi siamo rialzati, no? Siamo rialzati le partite, abbiamo preso ancora quel gruppetto lì di 5-10 in cima, in discesa un'altra volta, i due, siamo ancora, siamo i due, ancora, e io ho detto, io basta, detto, oh, andiamo, andiamo. No, no, vai tu, vai tu, io non vado più, perché qua si sfiga. Sto morendo, sto morendo. Questo è Berfin. Ciao da Cesenatico. Ciao.